segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te la parola qua quello che contestava prima gianni ora in qualche modo elisabetta piccolotti senteremo gli altri è un clima è un clima in cui se non ti adatti a quello che va detto arriva pesa una censura pesa se non il timore di una punizione pesa il timore di un comportamento scorretto mazza anna falcone io dico che da due anni questa è la seconda edizione sanremo serve anche a sfornare leader per certa sinistra diciamo così lo scorso anno c'erano chiara ferragni e fedez quest'anno gali ha preso il loro posto ci si riconoscono in quell'affermazione fatta senza senza una parola per quella strada del 7 ottobre la povera mara venier che abbraccio a distanza ha soltanto mostrato la sensibilità di gran parte dei tre spettatori per quella omissione che c'era stata non citando il 7 ottobre ed è un problema gravissimo da argendamico perché i due fatti sono accomunati lei sa dalle ma non si poteva fare un dibattito sull'immigrazione sì no come in che modo al dopo festival a domenica indica parla soltanto di 30 cantanti da fare esibire ma per uno che non trova che non è un cantante da fare per uno che ne trova perché non sfruttarlo lo puoi invitare floris la prossima settimana facciamo l'abbiamo già invitato vediamo se accetterà Anna Faltole